Ben trovata una nuova edizione di Senior News, vediamo i titoli. Dal 15 dicembre si estende l'obbligo vaccinale, ecco cosa dischi a chi non è in regola. Liste d'attesa, oltre 900 chiamate a settimana, appunto Senior Salute. Leucemia linfatica cronica, nuova terapia disponibile in Italia. Grey Panthers, nativi digitali, quanto conoscono davvero il web. Da mercoledì 15 dicembre si estende l'obbligo vaccinale, che non riguarderà più solo medici e infermieri, a cui viene anche ordinato di ricevere la terza dose, ma anche personale sanitario, amministrativo, personale scolastico e forze dell'ordine. Ma cosa rischi a chi non si mette in regola? Una circolare del Viminale conferma che non vaccinati non saranno licenziati, ma saranno sospesi senza stipendio. Per essere in regola da mercoledì bisognerà essere o vaccinati o avere una prenotazione per vaccinarsi nell'arco di 20 giorni. Sono oltre 900 le chiamate che ogni settimana arrivano a pronto Senior Salute, il servizio di Senior Italia Federanziani a supporto degli over 65, che hanno difficoltà con le liste d'attesa. Sono infatti milioni i pazienti che faticano ad ottenere il rispetto dei tempi indicati dal medico sulle prescrizioni nella prenotazione di una visita specialistica, un esame diagnostico, un ricovero. Al servizio contattabile al numero 06-6227-4404 si rivolgono non soltanto Senior, caregiver, figli e nipoti per conto di genitori e nonni, ma anche persone di tutte le età. Ma sentiamo il racconto di una donna che si è rivolta a pronto Senior Salute. Quando ho chiamato questo numero, il che mi hanno risposto al terzo squillo, mi ha risposto immediatamente. La ragazza mi fa, guarda ci pensiamo noi perché mi stai a cuore per i problemi che hai, però io non ho 65 anni, però mi fa che per i problemi che ho mi avrebbe aiutato molto volentieri. e mi ha fissato l'appuntamento. Mi sono trovata benissimo con loro perché appunto, avendo la ricetta del dottore che scadeva entro i dieci giorni, sono entrata giusta nei dieci giorni. Consiglio a tutti veramente perché al terzo squillo ragazzi hanno risposto immediatamente quando chiami l'ospedale e ci vogliono più di dieci minuti e giornate, giornate. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato la rimborsabilità di Acalabrutinib, una nuova terapia per pazienti con leucemia linfatica cronica, la più frequente fra le leucemie negli adulti nel mondo occidentale. Ogni anno in Italia si stimano circa 3.400 nuovi casi. La leucemia linfatica cronica può avere un impatto negativo sulla qualità di vita dei pazienti, che sono spesso anziani o per 70, colpiti anche da altre patologie. La nuova terapia è in grado di controllare la malattia a lungo termine e migliorare la qualità di vita. Vengono chiamati nativi digitali proprio perché è nati e cresciuti con la diffusione delle nuove tecnologie informatiche. Si presuppone dunque che questa generazione abbia le necessarie competenze digitali, ma è davvero così? Si chiamano nativi digitali perché sono nati nell'era di internet e quindi fin da piccolissimi hanno sentito parlare di internet, di rete, di condivisioni, di connessioni. E così fantastichiamo, anche perché li vediamo sempre collegati, che sappiano e abbiano capito tutti di questi strumenti. Beh, non è così. Un'importante ricerca condotta da Save the Children ha infatti dimostrato che l'82% dei ragazzi che hanno seguito in periodo di Covid, la DAD, quindi la scuola a distanza, attraverso il computer, in realtà era la prima volta che avevano a che fare con il computer e non avevano avuto modo di utilizzarlo prima. Così, dall'analisi, risulta che saranno sì veloci nel muoversi e nello sbanettare, però per esempio non sono capaci di identificare una password sicura oppure non sanno come condividere lo schermo durante una videochiamata, non sanno inserire un link di un testo per rimandare ad un altro tipo di documento oppure non sanno neppure scaricare un file da una piattaforma durante una lezione scolastica. Quindi questo cosa serve a dimostrare? Serve a capire che i ragazzi, anche loro come noi senior, dobbiamo imparare ancora ad usare al meglio questi strumenti. In più è stato dimostrato, sempre da questa ricerca molto interessante che potete leggere per esteso su greypanthers.it, è stato dimostrato che minore è il tempo che i tredicenni impiegano per stare sui social o per giocare online e maggiore è il livello di competenze che hanno, viceversa, quindi se stanno molto sui social sono poco competenti. Senior News termina qui, vi ricordo che questa edizione e tutte le altre potete trovarle sul sito www.senioritalia.it. Arrivederci a domani.